Eccoci qua! Viaggio! A Via Reggio! E vai! E si parte! Ciao mamma! Ebbene, abbiamo deciso di fare una breve vacanza, ha visto questo bellissimo istante molto caldo. Viaggiamo verso Via Reggio, sì. Con i nostri amici cani che tra un po' mi fanno vedere e adesso stanno tutti dormendo. Andiamo a prendere un po' di caldo, un po' di zanzare e un po' di... Alla guida Corinna! Qui, oi, il nasetto! Come sta? Viva! Questo è il mio amico Flamingo! Dov'è che siamo qua? Vecino alla lavagna. Eravamo un po' stanchi, faceva caldo e cominciava a fare buio. Quindi ci siamo fermati in un posto dopo la lavagna. Bravissima! I need a drink! A beer! Sì! Eccoli qua! Ciao! Come stai Fujiko? Meraviglioso qua! Bellissimo tramonto! C'è un concertino, siamo in un po', beviamo una birra e mangiamo qualcosina. Alla fine abbiamo capito, siamo a 6 strile avanti. Scusate, ma non eravamo in grado prima di intendere, di capire bene. Adesso ci rilassiamo, dopo andiamo a dormire in camper e domani si ricomincia il viaggio. Ecco Corinna in camper al risveglio. Siamo pronti per ripartire dai! Mi sono fatto una bella colazione. Fa molto caldo, una bellissima giornata. Anche stanotte abbiamo dormito, faceva caldino, ma aprendo tutto fai corrente e stai molto bene, sei molto fresco. Alla guida è impegnato in un sorpasso difficilissimo. Galleria! Siamo arrivati a Via Reggio, anzi l'abbiamo superato. Abbiamo attraversato tutto il viale di Via Reggio dove fanno il carnevale e poi ci siamo trovati questo bellissimo camping presso la Pineta. I nostri amici li abbiamo legati perché così almeno si rilassano anche loro. Vero Fujiko? Siamo arrivati. Siamo arrivati. Siamo arrivati. E stiamo raggiungendo il mare attraverso questa bellissima Pineta. Ehi cagnorini! Abbiamo trovato una specie di ombrellone per i cani credo. Il domingo ha preso. Adesso andiamo tutti a fare il bagno. Come è andato il bagno? Magnifico. Calloni, onde, relax totale, acqua bollente, sta molto bene. Vedete anche poi. Vediamo un cane che fa il bagno. Siamo arrivati al mare e poi dopo siamo tornati qui in campeggio. Siamo andati a fare una capatiera in piscina, un aperitivo. E adesso siamo qui a cucinare per fare cena in camper. Purtroppo... Abbiamo dimenticato il tavolo? C'è stato un problema col tavolo e quindi... Mangiamo con lo sdraio! Usiamo lo sdraio per mangiare. Comunque è un ottimo tavolino. Fujiko cosa ne pensi? Ci accompagnerà un bel vino bianco. Non si legge? Che cos'è? E' un vino bio rosato perlage. E' un rosato perlage. Buon appetito! Ciao! Buongiorno a tutti! Stiamo andando all'oasi della Limba, del lago... Torre del lago. Torre del lago. Famosa per... Perché? Perché c'era la vida di Puccini. C'era la vida di Puccini. Adesso andremo a vederla. Alla guida il metico d'algo. Per tutto il rifornimento di acqua cremosolare perché ci siamo trasportati ieri. Sono pronti per una nuova giornata da camperistica. Eccoci qua. Con quattro bestioline, su due umani, proviamo a entrare all'oasi di massa ciuccoli. E i cani dovrebbero entrare. Sono tenuti al guinzaglio. Adesso andiamo a vedere. Speriamo. Sono mignone. Sì. Questo è l'ingresso. Non si paga, però si danno delle offerte, come è giusto che sia, visto che questo parco è ben tenuto e serve come appoggio agli uccelli, migratori e nonne per vivere qualcosa che bisogna assolutamente lasciare. Allora, per adesso non abbiamo visto ancora uccellini, a parte quelle paperelle, però abbiamo visto un cinghiale. Sì. 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 Adesso siamo tornati in campeggio vera Corinna? Sì. Si abbiamo fatto pure la doccia, quindi siamo anche preoccupati e adesso andiamo a mangiare finalmente dopo il mare si mangia. Adesso ci facciamo una serratina tranquilla. Si fa per dire? anche oggi non abbiamo resistito a venire in spiaggia abbiamo trovato questa bellissima questo bellissimo recinto apposta fatto per i cani così possono stare liberi qua e noi non dobbiamo impazzire a legarli facciamo un drink tipico vodka per cani siamo di nuovo alla spiaggia nel primo giorno a torre del lago qui vicino a via reggio oggi è l'ultimo giorno stasera poi torniamo ed eccoci qua la mini vacanza è finita dopo il bagno di oggi è stato un bagno molto lungo perché abbiamo fatto tre o quattro ore di spiaggia siamo stati benissimo i cani anche adesso abbiamo pulito il camper ripartiamo alla volta di casa grazie di averci seguiti ci vediamo al prossimo viaggio che sarà sempre in camper e questa volta andremo in cantabile viaggio a via reggio ciao ciao a tutti ciao